Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Oggi ci divertiamo insieme a dipingere questa tela, questa è una delle tele che ho scelto dal sito di everydaydeals.com, vi lascio il link in descrizione, vi lascio anche il codice sconto che mi ha riservato appunto l'azienda per voi e questa è la tela che andremo a iniziare perché non credo di determinarla tutta ma inizierò il lavoro con voi e poi vedrete il lavoro ultimato sul mio account instagram vi lascio sempre il link in descrizione adesso vado un po' a cimentarmi con questa tela all'interno del kit vi ricordo che ci sono sempre i pennellini tre dimensioni differenti e ovviamente tutti i colori necessari per poter completare la tela come vedete la tela è bella grande bellissima piena zeppa di dettagli e un altro piccolo appunto per non dipingere direttamente sulla scrivania ho utilizzato questo supporto vedete di legno e l'ho fissato con del biadesivo così la tela resta bella ferma e posso iniziare a dipingere siete pronti iniziamo rieccomi adesso mi concentro su questa parte qui della tela e poi piano piano vado avanti allora numero 14 facciamo il numero 14 quindi prendo il numero 14 che è questo qui questo bellissimo verte sperando di non fare danni ad aprire il contenitore e eccolo qua e poi prendiamo prendo questo pennellino qua così inizia a fare prima i contorni del 14 e poi prendo il numero 15 e per l'ho fissato a fare prima Grazie a tutti. Rieccomi, ovviamente vi ho mostrato una piccola parte della tela, neanche l'1% della tela, queste due colorazioni di verde. Adesso proseguo con dipingere altri punti della tela, non credo di riuscire a terminarla. Oggi ho tanti impegni, quindi credo di realizzare una minima parte della tela e poi vi mostro il risultato. Ovviamente, come vi dicevo all'inizio del video, appena termino la tela ve la mostrerò per intero nel mio account Instagram, quindi seguitemi anche lì. Poi si vede anche il mio piccolo grembiolino a tema con la frutta, per non sporcarmi, perché io tendo di solito a imbrattarmi tutta. Comunque, niente, questa era una piccola parte e tra un po' vi mostro quello che sono riuscita a combinare in questa giornata. A tra poco. Rieccomi, questo è il risultato di un'oretta. Adesso non posso più dipingere, perché ovviamente ho altri impegni. E come vedete, i dettagli sono tantissimi, cioè, non so se si riesce a capire. Alcuni spaziati sono proprio minuscoli. Voglio ripassare un po' questo colore qui, il numero 23, perché si nota un po' il numeretto, non so se si nota qui anche in videocamera. E quindi voglio ripassare alcuni punti. Niente, questo è il momento del risultato. Io vi ricordo che, ovviamente, se riesco giorno dopo giorno vi aggiorno della situazione su Instagram. Ovviamente dei miei progressi per quanto riguarda questa tela. Io spero di finirla almeno per... Toh! Fine giugno. Incrociate le dita per me. Niente, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con un nuovo video. Ciao! 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 Ciao!